900 capi di abbigliamento con griff contraffatta sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Arezzo. Questi beni venivano venduti attraverso i social network. Siamo partiti da alcuni post pubblicati sui famosi social network per poi risalire alle persone che avevano pubblicato questi post che contenevano immagini e prezzo dei beni contraffatti. Poi abbiamo fatto le perquisizioni presso l'abitazione di due soggetti di stanza nel Cortonese e gli elementi rinvenuti e sviluppati ci hanno portato ad effettuare un'ulteriore perquisizione nell'Interland napoletano e rinvenire ulteriori capi contraffatti. Quattro le persone denunciate che il commercio online di merce contraffatta era particolarmente redditizio. Dai beni che abbiamo rinvenuto e da quello che abbiamo ricostruito siamo arrivati a un giro d'affari di circa 10.000 euro fatto in pochi mesi perché l'attività è stata monitorata dall'inizio del 2019 fino a oggi. Grandi firme a basso costo, già questo avrebbe dovuto insospettire gli acquirenti che i prodotti, capi di abbigliamento e scarpe da ginnastica che stavano acquistando erano dei falsi. I clienti rischiano una stangata. Sono stati individuati oltre 50 acquirenti di merce contraffatta, a loro verrà combinata una sanzione che va dai 100 ai 7.000 euro, rischiano la sanzione, niente di più. Come ci si può difendere? Perché magari c'è chi acquista in maniera ignara un bene contraffatto, una griffe contraffatta, come ci si può difendere nel mondo dell'online che ormai è imponente? In questo caso era abbastanza facile difendersi perché si trattava di post, non di siti riferibili a soggetti commerciali, ma erano persone fisiche che vendevano a un prezzo totalmente differente rispetto a quello di vendita sul mercato. e questi tipi di interventi sono proprio volti a tutelare l'economia sana, ovvero l'esercente che di contro svolge la propria attività commerciale in maniera corretta e onesta, vende marchi originali che hanno un costo totalmente diverso e una qualità totalmente diversa, per cui diciamo che l'intervento va soprattutto a tutelare l'economia sana e genuina.